ok siamo in live ok ok siamo in live perfettamente accettiamo sta richiesta no giochiamo cioè perché non ecco mi arrivo le notifiche forse dovrò ok aspettate potrei un attimo riavviarla a partite anche perché non so perché non capisco perché laghi cioè sto cercando di rimediare ma non credo di fare tantissimo oh l'ho accettata ok perfetto mio amico vediamo un attimo come sta andando in live perché non ok ok aspettate potrei un attimo ok ok perfetto va benissimo così bene 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 chi gioca? Tommaso becchiamo il primo che troviamo aspettiamo che finisca intanto raga guardi i commenti che commenti fatti allora vediamo vediamo perché è strano che ieri non laggiasse perfetto 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 allora ok abbandoniamo un attimo questa cosa qua e assolutamente devo vedere se la live sta andando dal vivo aspettate aspettate che cominci aspettate potrei un attimo riavviare la partita Tommaso becchiamo il primo che troviamo perfetto 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 mi sa che Tommaso mi sa che Tommaso mi potrebbe non sentire non so perché non guardiamo le impostazioni cioè non ci devono essere sempre sti problemi tutto regolare tutto regolare cioè proviamo ad annunciare il gruppo perfetto non ci da niente io direi di giocare da solo ragazzi faccio una partita da solo poi risolvo assolutamente questo problema colpo secolo non lo voglio perché mi ha dato problemi facciamo un singolo un singolo un singolo ok io direi che possiamo mettere potremmo mettere anche il mio vecchio deltaplano cioè questo forse è meglio questo le armi le lasciamo tutte così perché sono bellissime quelle della discoteca guardate che belle uh ecco sta caricando se qualcuno in chat ad esempio Roberto o qualcun altro sarei felice tanto per dire controllo se lagga c'è proprio controllo potrei mettere la videocamera ma direi proprio di no adesso guardiamo poi devo riordinare anche le live fra poco non so se sono riuscito a risolvere per me era perché avevo dato troppi impulsi proprio per quello vabbè comunque a parte questo il problema si è risolto domanda dove ci buttiamo che strana domanda un po' cioè mi butterei picco polare quando ti confusi pinnacoli no mi rischiamo di morire andiamo da Prodo se non è a Prodo sarà un altro paesino dimenticato da Dio perché mi sa che a Prodo c'è un po' anche qua nella fattoria c'è un po' di gente ma no no allora qui non mi sembra che ci sia gente qui non c'è proprio gente neanche di là eppure siamo in 93 ok perfetto qua non ci sono buono molte cessioni infatti oh ma il presunto no no ma non è atterrato nessuno il bello è quello aspettate ragazzi innanzitutto non so che dire cosa vabbè a parte questo almeno ce l'abbiamo l'arma e qui ci siamo ma perché what the help e comunque oddio pensavo che fosse una persona mi sono subito spaventato non c'è assolutamente niente troviamo colpi a caso questo c'è un pompa blu che fortuna che fortuna scusate lì non c'è andato nessuno vedo ben ok perfetto no no è impossibile poi mi arrivano anche dei messaggi e mmm ok il shielderino me lo tengo no anche abbiato le texture no troppo belle queste devo dire la verità le bende ce le prendiamo perché servono molto le bende per curarci tanto fra poco moriamo chi mi sta guardando tanto lo so sono i soliti ce l'hanno a tutti i miei compagni class bella raga comunque tutto bene è bella vabbè oh ci sarà pur qualcuno che mi scrive oh un like vai ne mettiamo un'altra dai raga facciamo like no ok mi stavo sperando mentre stavo controllando la chat comunque il modo in cui hanno messo le texture è una roba bellissima cioè roba bellissima non si potrebbe dire comunque c'è qualcosa di 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 stupendo si c'è 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 boh boh ah con le texture no troppo belle queste ok perfetto quindi siamo in live cioè questa cosa non mi sorprende molto a parte che potremmo giocare con ecco no raga quest'oggi non giochiamo con nessuno perché il l'audio non funziona e io fra poco dico tra ben anzi no sono le nove porca miseria miseria eh sì sono le nove vabbè devo guardare la striscia ma chi se ne frega eh chi piace striscia me lo scrive qui in chat tanto tra poco la vedi beh in questo momento guarda metti il lobby e ci guardo un attimo ok vediamo un po' chi scrive in chat messaggi principali non c'è nessuno che scrive bene io ho spammato tutti quelli che dovevo spammare poi se loro non vogliono venire è un'altra cosa adesso controllo un ottimo whatsapp scusate ragazzi perché devo fare tutto da qui perché il mio telefono è quasi scarico scherzavo facciamo una partita posso dirti che sì certo che la facciamo certo amore vieni qua allora innanzitutto è impossibile che non mi abbiano scritto niente cosa sono certo che i miei compagni scrivino qualcosa ma ok perfetto ok torniamo aspettate ragazzi che devo mettere finestra non lo voglio io voglio schermo e finestra ma ragazzi per me è il ptt ptt no 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 è giusto il ptt beh io vorrei un attimo ripristinarle le impostazioni aspetta che li potremo anche ripristinare ripristino bello ok scusate ma ora dovrebbe andare ok ok proviamo prova 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 niente non funziona c'è una cosa incredibile non ci credo perfetto l'audio è andato là che palline ragra 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 non ci credo tanto ma allora ragazzi io farei una copia colpo secco non so se mettere la visuale epica no alta ho paura che si bughi la live proviamo colpo secco oh proviamo a rifare colpo secco non mi è piaciuta così tanto ma crea la fattoria scostruisci il tuo lavoro per fabbricare delle fattorie beh carino evolver col mirino no l'ha ancora provata pistola c'è colpi con una bella potenza una precisione perfetta sulla distanza perfetto perdiamo perdiamo ops allora mouse per la forza delle banane tu devi esistere per la forza delle banane dai su sera non sto scherzando allora scrivete in chat se sono nabbo captain banana nabbo se sono pro captain banana pro comunque tutti mi scriveranno nabbi per me nabbo è un complimento quindi se volete scrivere nabbi fate pure ma che cosa vabbè raga dove ci buttiamo a prodaventurato non non è non 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 aspettate raga io direi di togliere la... ok perfetto a parte che c'è un casino di gente a dire la verità non mi sembra una gran cosa un cecchino non ci credo ecco hanno già iniziato per esperienza io mi ricordo che le prime volte che giocavo a fortnite quindi è stato un casino di tempo fa che volevo avevo inizialmente l'idea di farle live ma belle bene inizialmente l'idea di farle live alla fine cioè ci sono riuscito ma con ecco mi è arrivato un messaggio comunque ecco un altro messaggio raga io mi prego basta scrivere messaggi tanto ci cecchino no assolutamente ok 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 Grazie a tutti. No, 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 ragazzi, Italia Lorenzo, Italia Lorenzo, bravo Italia Lorenzo, segnala giocatore, guarda che io lo segnalo, ciao, spettatore, riempimento automatico spettatore. Dai ragazzi, ma mi vorrei che invio ste robe qua. No, Italia Lorenzo, Italia Lorenzo, Italia Lorenzo, Italia Lorenzo, Italia Lorenzo, ma lo devo imparare la memoria? Italilo Lorenzo. Italilo Lorenzo. Va che lo trova, dai che lo trova, dai che lo trova. Oh, bravo, bravo, bravo. L'ha trovata. Questa è una cosa incredibile. È una cosa incredibile. Ma, vabbè. Io lo aggiungo a Mickey in Epic. Tanto. Non c'è niente. Allora, ragazzi, io intanto guarderei un attimo come stanno andando, come i messaggi innanzitutto. I messuaggi. Chi che mi ha scritto due. Pronto, ci sei? Pronto. Ok, benissimo. Davidignos. Io sono qua. Come ci sei? No, dove sei finito? Ho problemi di occhio? Io non lo vedo. No, non lo vedo proprio. Bello un po' a me. No, no, no. Intanto guardo come stanno andando. Adesso controllo un attimo vuoto, più scusate. Per esperienza. Io. Intanto ci c'è. Allora, vi ricordo che nella live prima quella che la andiamo. No, 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 ragazzi. I tagli. Basta. Gli scrivo che ci sono. Ci sono. Ok, benissimo. Inviato il messaggio. Per bene. Devo dire la verità che è molto difficile. Oh, sta scrivendo una cosa. Allora, intanto sta scrivendo. Questa cosa mi piace. Accendo la switch e arrivo. Perfetto. 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 Direi che siamo a posto. 9-10. Porca miseria. Dai che troppo. Inizio. Devo andare a letto. Un'altra cosa dopo l'altra. Poi domani. Ai, ai, ai. Raga, mi sa che domani la live non si fa. No, non si fa domani la live. Forse si parte anche la prossima settimana per la live. Vabbè, mi spiace. A parte che in questo momento non mi ricordo quanti like abbiamo fatto perché ci sono zero spettatori. Boh. Vabbè. Boh. Scriverò l'ollerino. Beh, potrei spammare. Posso spammare. Lollerino. A parte che mi dice collega youtube. Perfetto. Copia. E adesso, guarda, vi spammo tutti. Giuro che vi spammo. Perfetto. Incolla Boom Vediamo Vediamo se funziona Perfetto Da che ora dovrebbe funzionare Perfetto Perfetto Vabbè Incolla Boom La live Adesso ci sta un po' rimediando Tanto Hai detto che sta accendendo la switch Vabbè Io non la vedo Aspettiamo Guardiamo un attimo i messaggi Ok Accetta La mia Richiesta Benissimo Ok Intanto abbiamo mandato il messaggio Ok Mi hanno dato il messaggio Lo sento Ok Sono quasi online Perfetto Ok Ok ma In freddo Perché Allora Ok 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 Niente 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 Che devo scrivere Allora Allora Io ho scritto Lollerino Ma Vedo Che in live Siamo in zero spettatori Zero spettatori Dai ragazzi Entrate in sta live Non è che adesso si è tutto Tutti a letto Boh Yes Yes Live Live raga Tutto live 17 Dai che c'è Pixel Yeah 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 No Ci sono Aspetta Ok Non mi va l'audio Yeah Ptt No Ok E allora Non lo so A parte che nessuno Sta parlando Di noi due No Non dirmi Che dobbiamo Farciato vocale Così No No Aspetta 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 Vabbè Ok Ok Ciao 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 Mi senti Eh Mi sa che dobbiamo giocare così Non so perché Che è Cosa è successo Ti sei scaricato Cosa Ti sei scaricato Ehm Cosa Come si chiama Aspetta Il discord Cos'è il discord Non ti ha parlato Non ti ha detto niente No No Ah perché Cosa Cosa No Non capisco Perché dovremmo andare Vabbè ok Arrivo eh Arrivo Eh sì Aspetta 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 Vuoi cittimini Da me Ok Mi musco Eh no Ho gli auricolari Ok Però dovrebbe andare Uh No Mi senti No Non ti sento Alla completa Già fatto Il colleghi Sare già attivato Sto facendo la live Va bene Aspetta Che utilizzo Il Questo qua Come ci sei Mi sa che devo andare A prendere le mie cuffie Sai Sì sì Mi sa che devo andare A prendere le mie cuffie Non so perché Ma Aspetta Arrivo Arrivo Un attimo Perfetto Ci sono Ok Colleggo Non siamo molto secco No no Neanche così Non funziona Ma Ok 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 Eh eh No vedi No Non va Non va Ok parla Eh sto parlando Ecco Però io Però io non sento te Pronto Eh no Non ti sento proprio Aspetta Aspetta Pronto Mi senti No non ti sento Proprio 00 Cioè tu mi senti da switch No io ti sento dal telefono Ti ho una zap Sì sì Beh mi sa che dobbiamo giocare Così sai Ma sì Sì L'importante è che mi senti a un whatsapp Sì ti sento benissimo Forte e chiaro Benissimo La live è iniziata Non so Ma sì Ok Ok Ci sei Davide Ok Pico A me va bene Pico Pico Isofraigo Basta che non moriamo Vabbè tanto ci arrivo Sì tanto Poco ci arrivo Eh sì ci arrivo Cici A limite ci arrivo Tu vedo che stai Sì Stai scendendo Già Impicchiata Sì Ok Perfetto Perfetto Ti vedo Ok Va bene Cos'è Quella roba gigante Sì sopra Sospesa Non è che hanno messo i draghi su fortnite No No dai su serio No No Che culo Eh vabbè Sì Finché è durato Bell Ma la prof di Di arte Quanto si è incassata Oggi No ma la c'è in casa Per Eh per niente Però Uh c'è 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 Perfetto C'è 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 Eccolo qua Eh c'è 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 Ma scusa Dimmi Dimmi questa cosa 50 di vita Che senso ha Eeeh Bravo Eeeh Come fa Ah Io c'ho un po' Di paura Sai Eh io sto cercando Di aiutarti No 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 Dove è a caricare No Ce l'ho quasi No Ce l'ho quasi Ma cosa Io ho trovato Cesto Io ho trovato Cesto Ho trovato Il barret Eeeh Dove sei No no Lo voglio uccidere Questo E' forte E' forte E' Fammi Ad Allora Ah Ho cambiato Anche skin Vuoi che mi mette Il mantello Dei nabbi O Lo zaino Dei nabbi Questo Era decorativo Quello decorativo Andiamo Ma E' fin Questa modalità Mi piacciono Un casino E' Cecchini Questo qua L'hai comprato Nello Start Pack 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro Eh sì Ti ricordi Ti ricordi a Padova Pensa se Milano Succerrà la stessa cosa Andiamo in una piazza Neri Mamma mia Io avevo paura A mangiare con loro C'era Schipani Che ha comprato Delle casse Ma Schipani E' matto Madonna Poi si è messo Anche a parlare Con loro Le prof Si aveva raccomandato Di non parlare Lui Sì Io ho Schipani Compro le casse Io c'ho Io c'ho Delle casse A casa Che mi è andato A Natale In gita Le portiamo Tu che dici In gita Potre Sì Poi ci rendiamo Tutti in una stanza Mettiamo le canzoni Che vogliamo Sul serio Ma al parco Ci sarà Un bordello Di gente Meglio Meglio Così commentiamo Ancora di più Sì sì Non sto scherzando Eh no L'IP Games Ti ha messo Ma la di pianta È strano Che io non abbia Mai usato Thanos E l'Excalibur Non l'ho mai usato In parco giochi Si poteva usare L'Excalibur No No Cosa fai Ma sei matto Perdiamo un casino Di vita Ciao Ah Non perdiamo vita È vero Ma che salti hai fatto Che salti hai fatto Io arrivo Guarda cosa c'è Guarda cosa c'è Guarda cosa c'è Ci sono le robe esplosive Vabbè Comunque tu sali Io troverò una carqua Ho trovato la granada Quella Ecco ecco Arrivo da te Subito Ok perfetto 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 Vieni Guarda Guarda Vieni qua Vieni qua Eh vieni qua Allora col cecchino Ciao Cecchino è mio Con uno No vieni Lo volevo prendere al volo Vieni 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 Arrivo Davide Arrivo Arrivo Eh sto volando Non so proprio come Aiutami Eccoli Eccoti Ti ho trovato Vieni vieni Sono qua giù Lasciati andare Ok eccomi qua Sì raga Sì No Io non riesco a volare però Non so perché Ok ciao Ok ciao Eh ho finito Ho finito i danni Ok Siamo messi parecchio male No i colpi Lasciami Eh io non ho i colpi Arrivo arrivo Oh yes No perché l'hai fatto volare La voglio cecchinare Dov'è Vabbè Vabbè io ti raggiungo No non ci credo Dov'è Eh grazie Come ha fatto Che mira poi Questo qua usa la mira assistita Dai dimmi come faccia O usa la mira assistita O usa la mira assistita Ma anche senza Passarci L'orderino Sono le 9.30 Mamma mia Poi dobbiamo Domani abbiamo anche la verifica Tra parentesi Eh vabbè ma Si prendo 4 Chi è il papa? Ah Gabriele No non lo chiamo più papa Perché Rompe Quando lo chiamo papa Si arrabbia Quindi non lo chiamo più Quindi Hai visto il nuovo trailer di spider man? Guardalo Si si veloci però Si appunto Intanto la mia live Tro poco finisce Quindi Oh Chi mi sta guardando Ops Si si Arrivo E che Non so perché Eh si 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 Stavo un attimo Controllando Eccomi Dove ci dobbiamo buttare? Eh vabbè Praticamente Dall'altra parte Va bene Arrivo Ci arrivi te Laggiù? Eh no Eh no Ci arrivi Perché Perché sta basso E se mi colpiscono Eeeh Guarda Ed 155 metri Prima c'era 301 301 37 metri 37 metri Son tantissimi 8 metri 16 metri 10 metri 33 metri C'è uno C'è uno che si chiama MF Games YouTube 0 Ma stralol Tra parentesi Quante possibilità hai Per incontrare Ninja Forse te l'ho chiesto Anche oggi Sì Oggi a scuola Forse te l'ho Siesto Forse Non è vero Perché forse Vieni Gigi bro Vieni È un attimo A per N O Comunque No Ma tu di Gabriele C'è te amici Grande Come è andata Beh dipende Se sono invitato No Forse non ce la faccio Chi è che spara? Forte? Come più o meno Questa qua? È forte A me pare molto forte I palloncini C'è Io ce li ho già Ho preso anche le bende Con un sacco di roba Sì Ops Ce ne ho Ho già Uno stack pieno Usciamo Vieni 3 2 1 Oddio No Ok 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 Sono uscito Dalla safe Non so cosa sia successo Sai Dove ero finito Ero finito fuori dalla safe Ma strano perché ero finito fuori dalla safe Un certo punto io rimetto la granata per rimanere su Vado avanti A un certo punto Torno Torno in safe E ci siete Lama 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 No Tanto arriva la safe No No Io ho preso i rampini Ho preso i rampini Vieni 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 Ma neanch'io Ah ecco ti Io devo rigenerare la vita Scusa Ecco mi sono rigenerato vita Oh praticamente le bende ti fanno come No E se tu hai 50 di vita Le bende ti possono rigenerare del tutto Ma è strano Perché hai messo uno stereo Ok perfetto Ho il massimo di vende E un sacco di costruzioni No non è accanto E Alex che lo fa Vero? Cioè Mentre stavamo guardando il film Uh guarda cosa ho trovato Cioè Una per me Uh Cosa ho trovato Beh Al posto di palloncino o lampino? È una domanda Vabbè Oddio Ma è quello nuovo? Cos'è sta roba? Ah È quello silenziato Spider game Spider game I am I spider game Eh c'è qualcuno? Da me? Eccolo No Perché non l'ho colpito? Perché non l'ho colpito? È impossibile È praticamente impossibile Eccolo lì Era da me È giù È giù È giù Vai intanto in safe Eccolo Spider game Spider game I am Spider game Ma non è morto È ancora vivo Però scappa Che ti è Eccolo Eccolo Perché non l'ho colpisci? Cosa? 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 Oddio Fortnite non capisce niente Io beh Devo andare Devo andare No dai Devo andare sul serio Scusa Scusa Devo andare sul serio Ciao Ci sentiamo Ciao Ciao Perfetto Perfetto Allora facciamo così Feedback pubblico La mettiamo Privato Consente ai amici Perfetto Ragazzi Direi che la live La live Finisce qua Un saluto da Gigi Per voi Perché non l'ho colpito? È impossibile È praticamente impossibile Eccolo lì Era da me No dai Devo andare sul serio Scusa Devo andare sul serio Ciao Vieni Gigi bro Vieni Sei molto forte Un Lama Vieni Tre due Quante possibilità hai Per incontrarmi C'è uno C'è uno Che si chiama Emi Vieni Vieni Oddio No A me Farai molto forte Uh I palloncini C'è un sacco di roba Sì Sì Ops Ce ne ho Ho già Uno stack pieno Usciamo Vieni Tre due uno Oddio no Ok 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 Sono uscito Dallo safe Non so cosa sia successo Sai Ragazzi A me è piaciuto molto Giocare con voi Io volo A parte quella Io volo anch'io Comunque Mi è piaciuto un sacco Giocare con voi Stavo guardando un attimo Come l'ha messo la live Ci vediamo Forse la prossima settimana Non so Quando Perché Non ne ho la più pallida idea Comunque Forse la prossima settimana Perché Avrò una ricerca da fare Forse domenico Sabato Nel weekend Vi avviserò Ci vediamo Dal vostro Capitain Manana è tutto Ci vediamo Al prossimo video Capitain Manana è tutto Bella bro